non mi ricordo da ci porto eh io lo so portato dove sei? ok voglio il nostro elicottero la via di fuga mi ho trovato l'elicottero oh la via di fuga venga a pigliare con l'elicottero hai capito? venga a pigliare con l'elicottero bravo venga a pigliare con l'elicottero vai giù venga a far no 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 ma come è così? ma come è così? via è morto si che un'esplosione ho sentito dire tu grazie a tutti grazie a tutti